Ma vi conviene fare la scaletta veloce perché già due telefonate sono arrivati al Ciac e la gente dicono che viene all'arma per dormire e deve riposare Buonanotte! Per chi telefona al Ciac fino alle 11 e mezzo possiamo suonare, ve lo dicono anche loro Buon divertimento, buon divertimento! A più che a Dino! Are you ready for paranoia? A più che a Dino! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.